Musica Adesso ho setto un attimo Le impostazioni audio Perché sono molto alte Ok Allora io ho messo Settaggio a ultra Tutto al massimo E nonostante Il fatto che sto registrando Non lagga per niente Buono Sono solo risfatto di questa scheda video Comunque questo qua è Questo qua è un video gameplay Non è un video Di benchmark O altre cose simili Quindi andiamo all'attacco Ok Ah non l'ho visto Però voglio diminuire un po' la qualità grafica Perché c'è un lieve Lag Non lag Più che altro Ogni tanto va a scatti Cioè scatta un po' E con risoluzione alto Va fluidissimo E comunque si vede bene Assistenza Assistenza Vabbè da lontano Con quest'arma Non si capisce niente Ok Attenzione Sta qua dietro Sicuramente mannaggia la miseria Mi ha fregato da dietro questo Mi ha fregato da dietro Vabbè Cerchiamo di fregarli A questi qua Adesso vado ad attaccarli da Direttamente da dietro anche io Faccio un bel giro largo Cecchino Come ho fatto a prendermi Vabbè Ammetto pure il cecchino Vabbè Andiamo verso i nemici Un po' che vero In questa malità Bisogna attaccare la bomba Farla esplodere Oh madame Quanti sono Quanti sono Dio santo Erano tipo In 5 o 6 Tutti quanti Raggruppati Ammassati là Che con una granata Piazzata bene Senza che se ne accorgono Muoiono tutti Il casino Che stanno facendo Mamma mia Tensione Penso che sia Ci sta qualche nemico qua Nelle vicinanze So che non vedo Nessuno So che non vedo nessuno Mamma mia Oh crepa Oh crepa Mamma mia Che azioni Che azioni Che azioni Che azioni Allora Vabbè Adesso scegliamo le armi Le classi normali Perché Boh Ho attivato il generatore Non so che serve Boh Vabbè Armato Oh venite giù Ho armato l'obiettivo Ma dobbiamo solo Cercare di Ah Abbiamo perso Vabbè Ce la potremmo fare E niente Questo video è solo un assaggio Dei prossimi gameplay Che farò Di Battlefield 4 Meno male Che è finita presto Perché Sennò sarebbe dato tipo 30 minuti E sarebbe stata noiosissima Beh Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi Commentate Un like Se vi piace il gameplay Ci vediamo alla prossima Bella